Dani? Dani? Robby, ora ho da fare, dopo mi dirai quello che mi devi dire No, 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 Dani, non hai capito! E' proprio perché devi fare quello che devi fare che io devo dirti quello che ti devo dire Mi stai mandando in confusione con queste cose che ci dobbiamo dire Va bene, dimmi Beh, ho brutte notizie per te, non puoi fare la cacca perché ho capito che è quella che dovevi fare Ma no, Robby, dovevo fare altre cose, non la popò Poi che cosa c'entra quella cosa che mi devi dire con la cacca? Beh, giù all'ingresso, nella nostra cassetta della posta, ho trovato un avviso del condominio In cui dice che tutti i bagni sono fuori uso per lavori in corso e non possiamo andare per nessuna ragione in bagno Fino a domani! Per le prossime 24 ore non possiamo scaricare nessuna acqua né andare in bagno, ti rendi conto? Guarda, c'è pure una X sul WC Cosa? Non possiamo utilizzare il WC? No, Robby, è impossibile! Dani, non gli scrivo io gli avvisi, purtroppo sarà successo qualcosa alle fognature, ai tubi, alle tubazioni, che ne so, non sarò mica un idraulico Piuttosto io sarò di lì e proverò a non pensarci Non posso più guardare TikTok Perché, Robby? Perché a un certo punto sono iniziati ad uscire tipo le cascate, le bibite, tutte cose che mi fanno ricordare che non posso andare a fare pipì Hai ragione, allora è meglio non guardare questi tipo di TikTok Però, Robby, a me sta venendo anche tantissima fame, io voglio mangiare Ma non è che non puoi mangiare, non puoi andare in bagno Ma se mangi, Robby, è normale che dopo ti venga da fare la pipì e la popò Quindi, basta, starò a digiuno per 24 ore Non bere e non mangiare per 24 ore, no, per me è impossibile, Dani Guarda, preferirei, preferirei non poter mai più giocare ai videogiochi, piuttosto che non poter più mangiare e bere E voi, amici, avete mai trattenuto la pipì per tantissimo tempo? Io no, e non si dovrebbe fare Una volta, Dani, io ero a scuola e mancavano ancora due ore prima di tornare a casa e mi scappava la numero due La cacca! E allora l'ho trattenuta fino a che non sono tornata a casa e poi l'ho fatta Ma oggi, invece, dobbiamo trattenerla fino a domani Dobbiamo fare qualcosa che non ci faccia pensare al bagno Robby, questa è un'ottima idea, magari potremmo giocare a qualcosa insieme Vado a prendere qualcosa Il primo gioco sarà il mini-golf Il primo che riuscirà a mettere la pallina nella buca vincerà Quindi, stai bene attento, Robby, perché io sono fortissimo Lo vedremo, primo tiro Vai Robby, Robby Robby, Robby Ma è arrivata vicinissima la pallina Te l'avevo detto che ero bravissima, devo solo esercitarmi Allora, il trucco è nelle gambe, no? Cioè, quindi tu devi mettere le gambe così Devi mettere il sedere un po' di così Poi devi fare un movimento tipo di così, no? Ok, allora, uno, due e tre Guarda! No! L'ho mancato di così poco Ora tocca di nuovo a te, vediamo se riuscirai a fare buca Sei pronta, è il secondo tiro Secondo me potresti ancora non farcela Potrei ancora vincere io Allora, devo vincere la regolazione e via! Per pochissimo! Sì, la pallina è arrivata fine qua e poi è tornata indietro La prossima andrà meglio Adesso ti mostrerò il tiro di un vero campione di minigolf Uno, due e tre Ma dove hai tirato, Robby? Aspetta, la pallina non si è ancora fermata, Dani Cosa? No, Robby, non è possibile! Hai visto? Te l'ho detto che il mio era un tiro davvero campione Forse sono stato anche un pochino fortunato Forse Ok, Robby, devo ammetterlo Hai vinto tu il primo gioco Sei contento? Beh, Dani, non troppo Anche perché, guarda Ho la maglietta blu Che esattamente come l'acqua e il mare E tutto questo mi fa ricordare che devo andare in bagno a fare pipì Solo che non posso andarci E poi quando ho fatto il movimento così con la mazza da golf Non ti dico neanche quanto mi scappava Ah, chi lo dici, Robby? Senti il mio pancino Ah, che rumore strano che fa Ho deciso Mangerò qualcosa Ci sono Mangerò dei marshmallow Sei sicura, Dani? Se poi mangi tante caramelle e marshmallow Sicuramente dovrai andare in bagno E noi non possiamo Eh? Cosa? Non ho capito Eh, troppo tardi Piuttosto Sto iniziando a pensare troppo spesso al bagno Facciamo un altro gioco? E' arrivato il momento del libro degli iscritti Vediamo chi è il fortunato o la fortunata di oggi Gaia Ciao Gaia Se anche voi volete entrare a far parte del nostro libro degli iscritti Iscrivetevi al canale e commentate qui sotto Ecco il secondo gioco di oggi Dobbiamo lanciare Questi quadratini rumorosi Sopra i cerchi con i punteggi Chi fa il punteggio più alto Vince E voi se volete essere degli amici di Dani e Robby Avete 5 secondi per iscrivervi al canale 5, 4, 3, 2, 1 Spero per voi che vi siate iscritti al canale Non riesco molto bene a concentrarmi Forse non dovevo mangiare quel marshmallow Robby Può fare la cacca? Peccato che qualcuno ce l'aveva consigliato Di non mangiare quel marshmallow Ora gioca E non pensarci Stiamo giocando proprio per questa ragione Per non pensare Ai nostri bisogni da fare in bagno Ok ci provo Ma Dani Hai fatto un super cento Sì Robby ci sono riuscito Non mi importa se devo andare a fare la pipì Io devo assolutamente vincere contro Dani Quindi beccati il tiro a palombella Così si chiama 3, 2, 1 Sì Anche io ho fatto un bel cento Vai Dani Vediamo se riesci a battermi Allora Proverò a fare un saltino Solo 50 con il saltino Robby Robby devo andare in bagno Non ce la faccio più Il salto Non è stata una buona idea Eh già Dani Mai saltare se ti scappa la cacca Adesso io farò Il tiro 360 In quanto farò Un giro completo su me stesso Guarda qui Solo 25 Secondo voi Chi vincerà alla fine? Scrivetelo nei commenti E Yuhuu Ah Per poco Questo è un 50 Non è un 100 Guarda Qui sarebbe 100 Ma a te E 50 Sul giallo Dani Questo gioco sta durando Un po' troppo Dani Io davvero Non ce la faccio più A trattenerla Lo sai Ho bevuto un sacco di acqua Questa mattina Insieme ai cereali E il latte Quindi ora lancerò questo qui Più veloce che posso Via Ah ah È arrivato sul 50 Ma quasi 25 Ora ti mostro Come si gioca Ok Ce la posso fare Inizio a non poter più camminare Perché devo tenere Perché devo tenere Il sedere stretto Ok Vado Ah No Non ci sono ben riuscita Robby Ora tocca a te Robby Robby Ma dove stai andando? Basta Dani Io vado Ho più il vero Tornitea Ma Si può sapere Dove sta andando Con quella bottiglia? Robby Sbaglio Così sente Il rumore della pipì Robby Robby Mi vuoi aprire? Fatto Dani È stato bellissimo Non mi dire che hai fatto la pipì Robby Non potevi Non funziona l'acqua E poi io Sto trattenendo Ma non ce la faccio Tranquilla Dani Come detto Mi è venuta Una super idea Guarda qui Ecco La mia pipì Puoi vederla? Che schifo Leva questa cosa Non ci posso credere Ma tu sei proprio impazzito Io invece Sto resistendo Da non so quanto tempo Ho detto di non afficci dormire Quella pipì Ha anche un bruttissimo odore Beh La stavo trattenendo Da davvero tantissimo Almeno adesso Mi sono liberato E posso continuare a giocare Senza problemi Mentre invece Dani Si la deve trattenere Tutta tutta Io davvero Non ci posso credere Che tu hai fatto la pipì Dentro la bottiglia E io invece Devo stare qui E trattenere La cacca Beh Dani Se vuoi ti prendo Una ciotola Mica sono una Sporcacciona Come te Sai che ti dico? Mi è venuta Un'idea La vai a fare A casa Dei nostri amici Certo che no Mica posso entrare A casa Dei nostri amici E dire Scusate Devo fare la cacca No È un'idea Stupidissima Ho pensato Di andare A dormire Così Non ci penserò Così mi sveglierò Direttamente domani E potrò fare la cacca Quindi Ora vado a dormire E non ti permettere A svegliarmi Dormire Per non fare la cacca Forse non è una cattiva idea Brava Dani Perfetto Ottimo Grazie Grazie Arrivederci Arrivederci Che buona notizia Hanno riparato Tutti quanti I gabinetti Cioè Le fognature E le tubazioni Vabbè L'importante È che adesso Dani Può finalmente andare A fare La cacca Nel suo bagno Ora vado a svegliarla E sarà Felicissima Dalla notizia Dani Dani Mamma mia Dani Stai dormendo Che puzza Sembra quasi che Qualcuno Si sia fatto La cacca addosso Mamma mia Ma stai ancora dormendo Si può sapere Perché mi hai svegliata Ottime notizie Il capo del condominio È appena venuto a dirci Che hanno finito i lavori Prima del previsto Quindi possiamo tornare Ad andare in bagno Felice Puoi finalmente Fare la cacca Beh In realtà Robby Non ne ho più bisogno Il mio piano Del sonnellino Ha funzionato Ora Non ho più bisogno Di fare la cacca Buon per te Dani Ma Qui dentro C'è una puzza Che Non so come fai Davvero a dormire Piuttosto Vieni di là E apri la finestra Ok Ok Apri la finestra Quante storie Dani 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 Oh mio dio Che c'è Robby Perché fai quella voce Ti rendi conto Che Mentre stavi dormendo Ti sei fatto la cacca All'orso Che schifo Ecco da dove veniva tutta quella puzza Dani Hai fatto la cacca nel letto La cacca nel letto Robby Non dire scemenze Io non ho fatto proprio niente Dani Guardati i pantaloni Che ho sui pantaloni Non riesco a vedermi Che schifo È uscita tutta la cacca Da quei pantaloni Robby Robby Ti prego Non dirlo a nessuno Non ti appoggiare al muro Per favore Sennò sporchi il muro Di cacca Ma io Non me ne sono resa conto Robby Mantieni questo segreto Ti prego Amici Non ci posso credere Che schifo Dani Ha fatto la cacca Mentre dormiva Perché le scappava davvero troppo E adesso Come facciamo A lavare le coperte del letto Penso che faremo prima A buttarle E qui c'è una puzza Che non vi dico Iscrivetevi subito al canale E lasciate un bel like Commentando qui sotto Se a voi È mai capitata Una cosa del genere